... ... ... ... Su 100 chiamate il 70% sono Covid, anche perché basta un sintomo minimo che può essere la tosse, che può essere la febbre, dolore muscolare, per cui noi veniamo subito allertati come Covid. Noi da qui abbiamo questo equipaggio, un equipaggio appunto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, abbiamo anche delle aggiuntive, cioè delle ambulanze che vengono aggiunte per dare supporto nei momenti di crisi. Il medico diceva che il pulmone di atto sentiva un po' sforzo. La gara è una grande luce. Nei come sforzo. Da, la città avvia le spalle. Dove mi sentivo? SONSORAMANDE Ma, la città avvia le spalle. Io non posso farvi vedere. Noi non possono farvi vedere l'impostante non bisogna fare l'impostante che vengono. Gli sono parlare di risultato che è felice alle volte. Si sono tali e l'impostante ci sono un po' sforzo. Inoltre, non sono po' sforzo nella gara della città. Grazie a tutti.